Benché gli accertamenti siano ancora in corso, pare che sia stata una stufa, evidentemente malfunzionante, la causa della fuga di monossido di carbonio, verificatasi ieri sera a Castelverde, zona Costa Santa Caterina, fuga che ha provocato uno stato di malessere una bimba di un anno e mezzo soltanto, ricoverata in ospedale, benché non sia in pericolo di vita. Alle cure mediche sono stati sottoposti anche i genitori della piccola e il fratello, tutti di origine egiziana. Immediato l'intervento del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, una tempestività senz'altro risolutiva.